Sono troppo agitata, ho sempre voglia di cambiare. Non è stata una scelta felice e facile, però credo che sia stata quella giusta per adesso. Non mi trovavo troppo bene a Torino, non sono riuscita a mai esprimermi come volevo e ho avuto questa possibilità, ho cercato di coglierla il più velocemente possibile. Cercavi un po' di stabilità, sicuramente in una grande squadra come è a Piacenza. Dove può arrivare secondo te Piacenza? Gli obiettivi sono tanti perché comunque si concorre per tutto alla fine. La squadra, io sto conoscendola adesso pian piano perché sono arrivata da poco, però il potenziale è alto perché si può lavorare molto bene. Anche con l'allenatore ho visto il lavoro che si fa sia tatticamente che tecnicamente, molto scrupoloso, le ragazze giovani comunque hanno voglia di far bene, quindi secondo me le potenzialità ci sono per poter arrivare a fare qualcosina. Adesso il cosa e quando non si sa, però secondo me un obiettivo si può centrare. Cambiato tutto il Nazionale è arrivato Marco Mencarelli, uno che guarda alle giovanissime, ma guarda anche all'esperienza, a quello che hanno dato tante ragazze come te alla Nazionale. Ci si pensa a Nazionale? Ma certo, a Nazionale ci si pensa sempre, dai, è il sogno un po' di tutti. Io non so poi come sarà strutturato il lavoro di quest'estate, quali saranno le scelte del gruppo, di Marco stesso, non lo so, è chiaro che se la chiamata dovesse arrivare per me è massima disponibilità perché è sempre il sogno di tutti, dai, a Nazionale. E con Piacenza questo potrebbe facilitare sicuramente il tuo compito, con la continuità che potrai trovare qui? Spero, sì, infatti, spero di trovare a proprio livello tecnico per me, per il mio divertimento, per quello che posso dare alla squadra, sicuramente un po' più di continuità rispetto a quella che avevo all'inizio anno, e di potermi esprimere, visto che comunque facendo le corna fisicamente sto bene, c'è un peccato, insomma, che non riesco a giocare al meglio, quindi spero di trovare questo a Piacenza. Grazie. Prego. Complimento. Ciao.